Il neonale sul progetto Ventuluna di Sor Moratti Tribalano servizio solo sui spessoni e si prendono per uno macchinario La famiglia Moratti è investita su pre-servizio di Santia e su centro di Sardegna Su progetto nuovo è l'index Caraviele Moratti Simuti di Ventuluna L'usigli di l'amministratore delegato Giovanni Matteo Baldi La cantina tiene serie neonale in sua provincia di Aristanis Invece servizio la stendono in su baricato e in su mandrolesai A un tal balde a sordesanza servizio sul subrutto di un tribale antico di Ustaterra Heredati in sozano ordejar famiglias Mauri rischiando dell'ardassare in abbandono Poi che non teniam preso un reddito aumenta sozano o laos Pares in sol masai orde neonele Amos un cordaos a gestione di Ustaterbindas Sortindo in su tribale solo in sere esperiencias técnicas e tecnologicas nostras Cenologa della cantina è Emanuela Flore L'azienda è in su tribale l'agronomo Giovanni Bigot e altri professionisti Uno di Ustaterra è Beppe Caviola, il responsabile dell'eserbind Amosca Saudia è tutto pompiando su prusa sul risparmio energetico Poi non ha danni sul terreno e sul frutto dell'eserbindas Non viene imposto solo mezzo per tribunare, ma solo persone e animali Sa e non viene con lì a mano, su matessi e sposa pressa dura Sui primi vini, la cantina che ha posto in suo mercato, sono Mari e Subi Mari è un mandorale già d'occo, benedato dai vintas che tenono da 30 anni a 70 anni Subi invece è un vino delle vintas in terreni di Neonele Un vino rubio, bello e buono e tenere da in ardebovalesardo Canonau, Múnica Pascale, Cariñano e Barbera